La Vela che unisce, alla sua terza edizione, è un evento benefico che si svolgerà a Fano il 20 e 21 luglio all'insegna dell'inclusione sociale e della navigazione a vela. È organizzato dal Rotary Club di Fano con la collaborazione del Club Nautico Fanese e con l'International Yachting Fellowship of Rotatarians e con il patrocinio del Comune di Fano. Il Rotary organizza dei servizi e quindi con la professionalità dei suoi soci organizza degli eventi o delle serate in cui riesce a raccogliere fondi per poi donare a un progetto che vuol sostenere. In questo caso è il progetto dell'Anfas e quindi la Vela che unisce è una bella intuizione del nostro socio Nicola Ferri. Quest'anno compie tre anni. Credo che questa sia una bella attività per coloro che vogliono partecipare alla veleggiata ma soprattutto anche il fine ultimo che è quello di raccogliere dei fondi per il progetto Itaca-Anfas. Il progetto riguarda un'attività inclusiva all'interno della struttura di Itaca ed è un progetto che prevede la costruzione di un nuovo chioschetto per dare fruibilità alle persone esterne per aprire il centro Itaca anche a persone esterne, diciamo, ai frequentatori abituali dell'Oxair. Quindi è un progetto che ci interessa promuovere perché con le risorse che il Rotary ci mette a disposizione possiamo ampliare un pochettino la fruibilità di questo luogo. Le attività di questo genere sono fondamentali perché i ragazzi che sono a Itaca hanno in questi anni speso tanto per mantenere in vita un bene che è di proprietà del comune ma che è gestito da Anfas come associazione e Anfas sta cercando in questi momenti di continuare a portarlo avanti nel miglior modo. Questa iniziativa, la vele che unisce, organizzata dal Rotary Club di Fano, coinvolge anche il club nautico fanese. Noi siamo responsabili, diciamo, per la parte tecnica della manifestazione. La manifestazione è una regata che sarà domenica per cinque categorie di barche, di cabinati. La regata si svolge qui avanti in Lido, sarà possibile vederla dalla spiaggia. Tutta questa regata è il beneficio dell'Anfas Itaca per aiutare i disabili e portare un po' di ugualianza per questi personaggi. Ci sono cinque categorie di barche, dipende sulla lunghezza, fino ai maxi. C'è spazio anche per persone disabili dove è possibile andare sulla barche e partecipare nella regata.